Sembra non fosse la prima uscita da casa, nonostante fosse positivo al coronavirus per il pensionato di Legnaro, sorpreso dai carabinieri mentre si recava all'ufficio postale. Al 112 i vicini, che lo avevano visto muoversi dall'abitazione, avevano già telefonato più di qualche volta. I militari lo hanno fermato, identificato e hanno notato che il suo nome compariva nelle liste delle persone sottoposte ai provvedimenti di quarantena che vengono fornite ai comuni. A quel punto l'uomo, 65 anni, è stato denunciato con l'accusa di epidemia colposa.